L'Udc stretto a Felice Errante fin dall'inizio all'interno di un terzo polo a Castelvetrano è coeso? Sì, questa è l'esperienza del terzo polo che noi vogliamo, che va oltre i partiti tradizionali, che mette insieme le energie migliori, più sane, più fresche, più trasparenti di una comunità e che sa guardare al futuro, che è ricco di incognite, ricco di problemi, soprattutto per le famiglie del Mezzogiorno d'Italia. E allora c'è bisogno di offrire agli elettori, come stiamo facendo qui a Castelvetrano, e per la verità in tantissimi altri centri della nostra regione, persone che sanno quello che fanno, che sono espressione della migliore esperienza amministrativa della comunità e che possono anche interpretare al meglio i bisogni di questa terra. Io credo che queste siano le ricette fondamentali. Qui a Castelvetrano si è riuscito a mettere insieme una squadra di persone per bene che in condizioni di garantire una continuità positiva e di migliorare, se sarà possibile, anche l'azione che in questi dieci anni Gianni Pompeo con grandi sforzi e con grandi sacrifici ha fatto e oggi credo che bisogna dargliene merito e dargliene atto. Quindi Felice Errante rappresenta anche la continuità con Pompeo? Ma rappresenta la continuità nel senso buono del termine, ognuno metterà la sua originalità, la sua autonomia e la sua freschezza nell'esperienza che fa, ma certamente essendo stato parte della squadra e dell'esperienza di Gianni Pompeo, insieme a lui ha costruito cose positive per questa città, li hanno fatti insieme, è giusto dargiene atto ed è giusto che si continui così ed è giusto che lui, che è stato uno dei più stretti collaboratori di Gianni, possa proseguire questo lavoro per il bene di Castelvetrano. Bene, Felice Errante, avere accanto un personaggio come Dalia di certo è un riempio di orgoglio. Sono onorato della presenza a cui stasera del Presidente Dalia per la sua testimonianza e per la vicinanza che ha già dimostrato per questa città, per la coalizione del partito che rappresenta dignitosissimamente a livello regionale. Noi, come dicevo prima, siamo stati precursori del progetto politico del Terzo Polo, del partito unico, di quell'ambiente unico che ha voglia, che ha i mezzi, che ha gli strumenti e che, come dire, da un punto di vista di solidità elettorale, ha dimostrato di avere quei giusti consensi. L'Udc è uno dei pilastri di questo ambiente e noi siamo qui per portare avanti tutte quelle iniziative con la serietà, con l'impegno e con la concretezza che ci contraddistingue. Ringrazio ancora il Presidente Dalia per la testimonianza, perché queste testimonianze sono importanti e fondamentali e servono ancora di più a spingerci oltre la campagna elettorale e a pensare già all'8 maggio quando, alla guida di questa città, saremmo impegnati all'amministrazione della cosa pubblica con tutti i problemi che questo può in qualche maniera comportare. Perfetto. Invece con Gianni Pompeo si ha proprio l'unpline dell'Udc qui in provincia di Trapani. Allora, l'Udc, come dicevo poco fa, stretto attorno a Felice Errante. Cosa ci si aspetta? Io vorrei ricordare a tutti che cinque anni fa io solamente con l'Udc e con due liste civiche ho vinto le elezioni e dall'altra parte non mi sembra che ci erano personaggi diversi. Oggi assistiamo a una coalizione che è quella di cinque anni fa. Abbiamo un giovane candidato che sicuramente merita da un punto di vista di capacità, da un punto di vista, diciamo, di dinamicità tutta la fiducia del popolo castelvatanese. Abbiamo in più un terzo polo unito e oltre questo abbiamo ancora la lista civica che mi ha sostenuto che è la lista civica città nuova e abbiamo anche il PD. È una esperienza nuova, interessante, emozionante dall'unione di queste forze. Speriamo che esca effettivamente il candidato migliore e il candidato migliore è Felice Errante, lo ribadisco, e che questa città possa continuare in una primavera che ha avuto inizio vent'anni fa, non col sindaco Pompeo ma con l'ex sindaco Buongiorno.